Let's play Come cacchio ha fatto ad averlo? Ma come cazzo hai fatto? No, ma me lo devi spiegare Come caspita ti chiami Jackton Ma come cavolo fai? Non lo so ragazzi Non lo so, è incredibile sta cosa Comunque, Umbrella Shiny Ok, sono con l'account di Jackton E ha potenziati Pokémon Non poco, ce li ha tutti a Viola Addirittura alcuni Viola più uno C'ha ben due Shiny in squadra E sono tutti Strength 3 stelle Minchia Minchia E c'ha pure Pokémon Guarda quanti altri c'è No, ma donna mia Quanti po' Ma quanto farmi tu Quanto farmi, dannazione Sono qui sull'account di Jackton Perché in questo episodio Intendo, intanto ti faccio il daily login Ti piglio ste cosette qua Visto che sto, lo faccio sul mio Lo faccio anche sul tuo Sai com'è? Caspita, oggi mi sono dimenticato di prendere sul mio account Le energie Vabbè ragazzi, vabbè Perché ho registrato l'altro video Mi sono dimenticato Ok, comunque sono qui Perché Jackton ha Wow, sei nella Liga Elite Ok Troppe cose mi indestraggono Jackton ha trovato Ha trovato Il Dragonite O meglio Ha preso il contratto di Dragonite E quindi ci sto facendo Gentilmente Mi ha concesso di entrare nel suo account Come abbiamo fatto per Articuno Quindi ci faccio un video sopra E vi dico anche come potenziarlo Vi darò anche due o tre informazioni tecniche Per sapere Quali sono le migliori nature Qual è il miglior attacco Queste cose qui Però Iniziamo subito E andiamo all'interno del Safari A catturare il nostro Dragonite Ok Ok Sono pronto Ho messo Il Brilum Per primo E attenzione Cioè Jackton Sentendo Jackton Sapete perché ci aveva sciso Per primo Perché Cioè Noi comuni mortali Andiamo e ci prendiamo un Entei E diciamo pure Yeee L'abbiamo preso Lui farma gli Entei Cioè guardate quanti ce ne ha C'ha tre Entei Ma porca di quella paletta Ma come cavolo fa Mali mortaggi Va bene Allora andiamo Safari Aspetta un attimo Dovrei avere Non penso che mi ha lasciato Senza Ball Ok Ce ne ho un casino Vediamo un'altra cosa Eeeh Qualcosa che mi recupera gli HP Dovrei avercela Si ce l'ho Sono Queste Freshwater Quindi Eeeh 250 HP Li posso Recuperare Dovessero servire Non si sa mai Ok Allora Siamo pronti Andiamo No all'exchange Ma nel challenge Dove sta Dove sta Safari Zone Pronti Partenza Getting to Wow Entriamo nella Safari Zone Benissimo Tra i contratti Dovremmo trovare il nostro Dragonite Attenzione io C'ho sempre il cago Che Ho dimenticato qualcosa La mia squadra La mia squadra ce l'ho E' tutta a posto L'ho controllata prima Si Vai Usa Catch Ok Dragonite E' comparso davanti a noi Pronti per questa fantastica battaglia Allora La strategia sarà semplice Lo addormentiamo E cerchiamo di non fargli troppo male Ok Quindi Spore La nostra prima mossa Benissimo E lui va Addormentato Bello Dezio Ok Ora Io dovrei riuscire a capire Sky Uppercut Non è molto Allora lui è un Drago Flight Questa è una mossa Oh Gli ha tolto 250 Belli Possiamo Possiamo anche provare questa Che è grass Gli ha tolto ancora meno Ottimo Quindi andiamo con l'altra mossa Not very effective Benissimo Era proprio quello che volevo Non volevo che fosse effective Quindi Quindi quella li toglie 100 Io ti do un altro paio Cazzo sei svegliato Dannazione male Questo È un grosso Problema 300 HP Scisor Scisor Allora Con Geridos Non gli posso togliere 200 HP Se no mi andava molto bene Tu che mossa c'hai Revenge Quanto cazzo è forte sto coso Madannazione Metal Clow Ragazzi Oh Oh porca di quella paletta Tale cose non stanno andando Proprio come volevo Resisterà Resisterà Perché c'è questo C'è false swipe Che è nabbo False swipe Sicuro è nabbo Questo me ne ammazza Almeno un altro Game root Game root Che mossa c'ha Porca di quella paletta Ma che cazzo di pokemon potenti mi hai dato Regirock Rock throw Dream punch Ehm Curse no Rischiamo di ammazzarlo Sono un po' indeciso Sono in difficoltà Ok Alla fine abbiamo schierato Game root Eruption La vede un po' troppo forte Flamethrower pure Ehm Earthquake Non posso Rock slide Secondo me lo ammazza Secondo me lo ammazza Sì però mo Sono fregato Ok It doesn't affect Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Però così rischio Allora Facciamo una prova Facciamo una prova con Shiny Weevil Anche perché questo Dovrebbe essere un attimino O meno Ah no C'era sempre 1100 Revenge non dovrebbe Fargli tanto male Ehm Porca miseria No Metal claw era il più debole Metal claw Fai piano Fai piano Fai piano Fai piano Oh mio dio Santissimo Madonna Santissima Benedetta Dell'ingoronata Allora Ehm Tu resisti Un attacco Devi resistere Di sto cristiano qua Non è che devi resistere Assai Scusami Io c'ho Io c'ho la paura C'ho la paura Che tu non mi resisti Che se poi mi muori Sono cazzi amari Di perdiabetici nostri Non lo posso manca addormentare Ma guardate Porca Di quella zozza Luridissima Porca Di quella zozza No vabbè Ma porca Miseria Lurida Cioè non è addormentato Non è ad uno Di HP Io che cazzo Gli racconto Le barzellette Ma dannazione Allora Non ho alternative ragazzi Devo Devo andare avanti così Perché non ci sono oggetti Non so Se ci sono oggetti Per insomma Farlo Diciamo Resuscitare Cioè Far resuscitare i Pokémon Che ho Quindi non posso portarlo ad un HP Per fortuna Siamo scesi a 68 HP Ehm Io inizio di Grit Ball A sto punto Di Ultra Ball O scusa Che Ball sono queste? Normal Ball Tu sei un Pokémon Fighting Ball Flying Ball C'ho tre Flying Ball Che potrebbero essermi utili Water Ball Sì Come primo Come all'altro All'altra cattura Che gli tiro le ball Così a cazzo E E poi lo catturo Con delle ball Che non c'entrava una minchia Proviamo ragazzi Non lo so Speriamo che vada bene Sa cosa ti prego Ti prego Non posso perdere il Dragonite Ok Le Ultra Ball Sono un po' incazzose Ma io lo sapevo Cioè Sto gioco mi fa dispetti Come ho messo Shizor Me l'ho ma sciottato Ma io lo sapevo E poi Shizor È veramente un Pokémon Di merda Ma fatevelo dire Che Pokémon Di merda è E questo continua A potenziarsi Questo movie One shot A Camro Siamo nella merda Guardate un colpo Mi ha tolto 600 HP Ma state scherzando? State scherzando? No eh No Non è possibile Non c'è neanche oggetti Che mi curano Dannazione Maledetto Sto stronzo Continua La speed L'attacco Continua A potenziarsi Maledettissimo Sei un pezzo Di cacca Ma vai via Ma sto Motto Ok Time route È andato Regirock Mi sembra Tu mi sembri resistente Dimmi che c'è 2000 HP Una merda Dannazione Ultra balla manetta Ti prego Tu entri Quella cazzo di Pink Ti prego Non voglio uccidere Il dragon È selvatico Non ha mossa che si suicida Vero? Non ha mossa che si suicida Continua a potenziarsi Ma guarda questo Guarda questo Io mo che cazzo Gli racconto A Jackton Ma dannazione Sì Sì Regirock mi resiste Gli attacchi 200 HP Gli ha tolto Quindi Ho ben 4 attacchi A cui posso resistere Non sono tantissimi Se iniziano ad attaccarmi Di brutto Sono fottuto Tra l'altro Si sta potenziando Come uno stesso Suo maledetto Però ho ancora Qualche chance Di farcela E ho 3 pokeball Per i pokemon volanti È molto più difficile Del previsto Ma dannazione Cioè uno Non solo si fa il culo Per prendersi i contratti Ma poi deve sudarseli pure Per catturarli Ma che pezzi di merda Sti qua C'ho la paura addosso Questo è arrivato Ad attacco più 5 Attacco più 5 Speed più 6 Cioè questo mi fa Il culo A strisce Ma Cioè non a strisce Di più Eccolo Allora Io andrei di volante No Questa è la waterball Flying ball Proviamola una flying ball Oh Che te devo dire Entrerai in sta cazzo Ti prego Ti prego Dico le preghiere A tutti i santi Dei pokemon Di questo mondo No ma manco per il cazzo Ma dannazione Guardalo te Io te le uso tutte Le ultra ball Anche se non Non credo di riuscire Ad utilizzarle tutte Perché Penso di perdere prima Tutti i pokemon Ma io te le utilizzo tutte Cioè non me ne frega un cazzo Tu devi entrare Che situazione di merda Ok Ora si è potenziato al massimo Speed più 6 E attacco più 6 Cioè ora sono proprio nella merda Spero che ora non inizi ad attaccare Ma che la IA Sia abbastanza deficiente Da continuare A volerselo potenziare Sa com'è Spero che Sì L'ho preso L'ho preso Ma vai Ma vai Ma che pezzo di merda che sei Ma guarda quanto sei stronzo Jacketon Sei salvo Sei salvo Tranquillo L'ho preso Ho consumato 800 Ultra ball Ma l'abbiamo preso Tranquillo Rage rock L'ho visto Bello massiccio Puoi dargli il croccantino Perché si è comportato Molto bene Bene Ora vi dico alcune Notizie tecniche Su Dragonite In pratica Bisogna cercare La natura Che gli potenzia L'attacco E che gli diminisce Qualsiasi cosa Eccetto che La velocità Come avrete potuto anche notare Da questo combattimento Che abbiamo fatto Perché Lui quel bastardo Continuava a potenziarsi L'attacco E la velocità Quindi la cosa più importante È potenziarsi l'attacco Con la natura L'importante è che Non diminuisca la velocità Quindi qualsiasi natura Di questo tipo Va bene Poi per le altre statistiche Diciamo che Più sono altre tutte Meglio è Lo so È una strategia di merda Però effettivamente Va così Ora vediamo Oh mi è venuto timido Guardate un po' Guardate un po' Cioè Ma io lo so Avevo Meno attacco Più velocità La natura Più di merda Che poteva No è più di merda No Però diciamo Che poteva capitarci Qualcosa di meglio Insomma Vediamo un po' I valori HP 27 Speed 22 Non è male Anche se avremmo Preferito questi Però penso che Jacketon li resetterà Come se non ci fosse Un domani Ok Ora procediamo Al break E allo strengthening Del pokemon Però dovremo prima Fare alcune Operazioni Molto importanti Allora Per potenziare Un pokemon Generalmente Noi abbiamo Tre modalità Uno Farlo salire di livello Però voglio dire Dragonite Già a livello 66 Più di tanto C'è l'account di Jacketon A livello 66 Quindi più di tanto Non può salire E comunque Questa è una cosa Che si può sempre fare Nel tempo Dopodichè Parliamo del break E poi abbiamo Lo strengthening Lo strength Allora Per fare queste cose qui Bisogna andare sempre Sul breed E vedete Ci sono i due pallini Il break Già lo conosciamo Però lo faremo Più avanti Io parto Dallo strength Che è la cosa Che non conoscete Che non abbiamo mai fatto In pratica I pokemon Che hanno due tipi Di natura Sono sempre i migliori Da potenziare Perché Generalmente Per fare un livello Di strength Quindi una stellina in più Abbiamo bisogno Di 30 di queste palline Ogni giorno Si possono prendere Un certo numero Massimo di palline Per tipo Quindi che ne so Si possono prendere 3 palline per acqua 3 palline per volo E così via Quindi Avendo la doppia natura Essendo il numero di palline Per passare Al livello successivo Fisso Quindi sempre ce ne vogliono 30 Se io ho due nature Vuol dire che Ne devo avere 15 di un tipo E 15 dell'altro Quindi in questo caso 15 drago E 15 volanti Di conseguenza Posso prendere Il doppio delle palline Ogni giorno Avete seguito il ragionamento? Cioè se io posso prendere Vi faccio un esempio 3 palline acqua Ogni giorno E ho bisogno Di 30 palline Per superare il livello Ho bisogno di 10 giorni Se io invece Ho un pokemon Doppio tipo Quindi acqua E volante Per esempio Posso prendere 3 palline acqua Ogni giorno E 3 palline volanti Ogni giorno Quindi Avrò bisogno Di 15 palline acqua E 15 palline volanti Per superare il livello Quindi ci metterò 5 giorni Esattamente la metà Ecco perché conviene Avere Pokemon Di 2 tipi Per cui Per il momento Abbiamo palline Sufficienza E dovremmo poterlo Vediamo Forse lo riusciamo a portare A 3 stelle Allora Facciamo il primo Strengthening Ok il secondo Strengthening Non lo possiamo fare Ma possiamo Recuperare Delle palline Da un altro Pokemon Allora Se andiamo Nell'exchange E ci mettiamo Geridos Do cazzo sta Geridos 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 Non lo trovo Ok L'ho dovuto Sbloccare E togliere dal team Allora Quindi mettiamo Geridos Benissimo L'ho tolto Da tutti i team A questo punto Non mi serve Effettivamente metterlo Ma Dobbiamo ritornare Quindi l'ho fatto Questa cosa Solo per togliere Da tutti i team Del pvp Pve Tutta sta roba qui Quindi l'ho liberato A questo punto Se vado nel Pokecenter E vado su Reset Metto il mio Geridos Il mio Quello di Jackton Voglio il 100% Degli oggetti Indietro Quindi questo C'ha oggetti Acqua Oggetti Volanti Però mi mancano I drago E c'è un problema Guarda quante cazze Di oggetti C'ha No Guarda Drago Volanti Acqua Ce ne ha parecchi Ce ne ha parecchi Ma Delle palline Drago Manco l'ombra Mmm Mmm La cosa mi puzza Allora in realtà Il discorso di Geridos Non ci serve Dobbiamo recuperare Degli altre palline Drago E in pratica Ce ne serve Una sola Quindi Se andiamo Qui dentro E andiamo Alla Viridian Gym Vedete Si possono recuperare Da ogni tipo Di allenatore Sì ma sono Pirla Ho bisogno Solo di quella Drago Quindi vado Nella Viridian Cazze e mazzi E recupero Ride Mi dovrebbe consumare Le energie Lì sopra Ride again Ok Una pallina Drago Era quella Che mi serviva Precisa 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 Benissimo Facciamo il secondo Strengthening Ragazzi Lo strength Potenzia Non poco Guardate Gli hp Da 589 A 700 L'attacco Da 400 A 500 Cioè Quasi 100 A statistica E tantissimo Ok Minchia Quanto cazzo Costa il 4 300.000 Soldi Porca Di quella Paletta Sicuramente Non riesco A farlo Ora Però Scusate Io 3 time Me le faccio Due ride Tranquille Ah ok Vedete Ho preso 3 palline Drago Ora non ne Posso prendere Più Di conseguenza Vabbè Io intanto Te le ho prese Jackton Per il futuro Ora possiamo Però Breccarlo Sì però Spese Energie Che mi sarebbero Potute Essere utili Per il break Vedete un po Il break Ok Che mi richiede Meno cose Quindi conviene Fare tutte e due All'inizio Però mi dà Molte meno Statistiche In più Ed è gratis Nel senso Che non pago Soldi veri Comunque Vediamo Fino dove Riusciamo a portarlo Ok Già abbiamo Le mancanze Di Psyduck Ride per piacere Mi dai uno Psyduck Veloce Veloce Ma quanto Sei stato Gentile Grazie mille Ok Culo Ce ne abbiamo Uno per tipo Jackton Ci siamo I più sculati Oh mio dio I più sculati Di questo mondo Ok Ora lo vorrei portare A viola Vediamo un po Cosa mi manca Tanti Koffing Gli Ekans Ce li ho Facciamo un attimo Il punto della situazione I Persian Ce li ho Ok I Seeking Non ce li ho Allora potrei riuscire A prendere I Koffing E i Seeking Tanto Eventualmente Spendo alcune gemme Ristoro queste Vediamo un attimo Se posso prendere Delle energie Ok Si Quindi prendo Delle energie Da qui Che sicuramente Mi servono Non ne ho più Ok Non ne ho più Va bene Non te ne ha inviato Più nessuno Ok Vediamo fin dove riesco A portare Dragonite Ok Questo è l'ultimo giro Di ride Per prendere Le ultime carte Di Seeking Dovrei essere riuscito Ad averne 10 12 Perfetto Ottimo Siamo arrivati a 12 Quindi Abbiamo tutte le carte Per portare Il nostro Dragonite Pronto Per un combattimento E abbiamo Un Dragonite Strength 3 Quindi 3 stelle Ed è di livello Viola Signori Viola Io ora non ho più Energia Ho speso 100 gemme Per acquistare Altra energia Però potrei prendere Dei Raticate E questi ce ne abbiamo Ancora E dei Persian Ce li abbiamo La cosa difficile Sarà prendere I Cloister Perché vedete Ce ne vogliono 42 Dannazione 100.000 Per fare Un Cloister Artbook Di livello Minchia Cioè Porca di quella paletta No Direi che Non è fattibile Jackton Ti ho portato Il Dragonite A livello Viola Strength 3 E te l'ho anche catturato Che vuoi di più Che vuoi di più Un paio di 100.000 euro E non te li posso dare Quelli Mi dispiace Mi dispiace Bene signori Per questo video È tutto Aspettate che mi metto Il Dragonite Putting bag E mi devi anche Followare Lock Pokemon Vabbè Non ti preoccupare Stai lì Breed Followami Oh C'ho il Dragonite Che mi segue C'ho il Dragonite Che mi follow Madonna bestia Madonna bestia Il Dragonite Che mi follow Quanti cazzi Di Dragonite Ci avete Scusate La festa Di Dragonite Ora Ok Screen Per i Jutsuz Detto questo ragazzi Vi ringrazio per aver visto il video Fin qui Ringrazio Jackton Per avermi dato Ancora una volta fiducia E avermi dato La possibilità Di registrare questo video Con il suo account Se siete arrivati fin qui Lasciate un like Commentate Condividete Per sostenere La serie Il canale Il video A me I vostri compiti L'estate Tutte cose Ragazzi Un like Risolve tutti i problemi Se siete arrivati Fin qui Hashtag Dragonite PvP Dragonite PvP Ci vediamo Nel prossimo episodio Un saluto Sharks Siamo tutti Ciao